Buongiorno e ben trovati a Mattino 6, ultimo appuntamento dell'anno per la nostra rassegna stampa che iniziamo subito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali, poi andremo a dare un'occhiata anche ai titoli dei quotidiani nazionali. Iniziamo dunque dal quotidiano Il Centro, nell'edizione di Pescara il titolo di apertura è dedicato allo sport, poker da sballo, Pescara secondo, Serie B, Mancuso Show, i Biancazzurri ribaltano la Salernitana e chiudono l'anno col botto. Nel taglio alto, gli avvenimenti di un anno in Abruzzo, la Dia Marchionne, San Nunzio, Gravina, ecco gli eventi del 2018 secondo il quotidiano Il Centro, poi verso il voto regionali due giorni di Salvini in Abruzzo nel nuovo anno e ancora urbanistica da garage ad abitazione, ora si può fare, la legge è stata sbloccata. Andiamo a vedere poi nelle cronache di spalla, Capodanno a Pescara, festa in piazza con la musica di J-Ax e Silvestri, sono i due appuntamenti di fine ed inizio dell'anno e poi ancora ragazzi rapinati e presi a pugni, quattro gli arresti e sempre dal capoluogo in via di sotto strisce pedonali che si illuminano. Andiamo a vedere anche il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il titolo Gli stranieri ci invidiano, imitiamoli. Secondo quanto ci racconta Di Tanna in un sondaggio di Gallup International, siamo il terzo paese più pessimista al mondo, preceduti solo da Giordania e Libano e seguiti da Corea del Sud e Hong Kong, nonostante tutte le bellezze che abbiamo a disposizione nella nostra nazione. Andiamo adesso avanti sempre sul Quotidiano Il Centro, andiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto, il titolo di apertura questa volta è di cronaca, muore nello schianto vicino a casa. Altino, scontro frontale alla selva, ex autista di bus si aggrava nella notte, ieri il decesso. Il taglio alto lo abbiamo già visto in precedenza e il medesimo dell'edizione di Pescara. Allora andiamo nelle cronache, a Chieti, lite sull'asse tra conducenti. A processo un 39enne di manoppello è accusato di aver inseguito e speronato un'auto sull'asse attrezzato deve rispondere di violenza privata. Sempre a Chieti, un capodanno senza festa, sale la protesta. E poi ancora a Vasto, città sicura, si mobilita anche il turismo. Andiamo a vedere il Centro Pagina con la pallacanestro di Serie B, teate resa con la capolista. La squadra di Coen s'arrende al San Severo del Teatino, Salvemini. Lasciamo l'edizione di Chieti Lanciano Vasto, andiamo su quella di L'Aquila Vezzano sul Mona. Il titolo di apertura anche qui di cronaca ha preso a pugni all'uscita del locale. L'Aquila, il figlio del 55enne Picchiato, ricompensa a chi ci aiuta a trovare il colpevole. Andiamo a vedere poi nelle cronache. All'Aquila il sindaco, progetto case ai militari e agli studenti. Pierluigi Biondi ha tra gli obiettivi del 2019 proprio quello di assegnare il progetto case ai militari e agli universitari per ridurre i costi. E poi ancora ad Avezzano la CISL, poco personale e pochi letti ospedale in tilt. Ancora a Sulmona nuove manovre per ribaltare la giunta Casini. Andiamo a vedere il Centro Pagina, anche qui dedicato allo sport, calcio dilettanti. L'Aquila numeri da record, una valanga di gol prima in Abruzzo per la rinascita dei Rosso Blu. Andiamo ancora avanti sulla edizione terramana del Centro, anche qui titolo di apertura di cronaca. Appalti, altri sei mesi di indagini, l'inchiesta per corruzione negli enti pubblici nel mirino legare per le calamità. Andiamo a vedere poi di spalla nelle cronache. Muore Garosi, ex primario di ortopedia, lutto nella sanità terramana. È morto l'ex primario di ortopedia dell'ospedale di Giulianova, Gianfranco Garosi. Il medico aveva 88 anni. Ancora la Teramo, blackout ridotto dopo le proteste dei cittadini. E ancora Giulianova, pescato record per il cenone di Capodanno. E qui vedete a centropagina la Serie C con la festa in casa Teramo. Teramo, vittoria e ossigeno battute sul Tirol. Ora la classifica si fa rassicurante. Cambiamo testata, adesso passiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la prima dell'inserto abruzzo del quotidiano romano. Anzi no, probabilmente c'è un errore. Questa è la prima pagina della edizione nazionale che andremo a vedere tra poco. Anzi, vediamola subito così introduciamo le pagine nazionali. Reddito fuori un milione di famiglie. L'anticipazione del provvedimento platea ridotta. Le entrate non potranno superare i 12.600 euro. La manovra è legge. Scontro alla Camera. Moscovici, Bruxelles, Vigilera, tasse. Ecco gli aumenti. Dunque questo è l'approfondimento sul tema fiscale. Poi andiamo a vedere anche l'anno che verrà. Troppe chimere, poche risorse per un 2019 senza crescita. E l'opinione di Romano Prodi, riportata proprio sulla prima pagina del messaggero in questo fondo dell'ex premier ed ex presidente della Commissione europea. Ci sono i personaggi principali di questo 2018, arriva il 2019 e avrà il loro volto. E poi ancora congelati i pedaggi dell'autostrada. Il resto è il nodo A24, questa notizia che riguarda direttamente anche l'Abruzzo. Oggi il decreto scontro Anas strada dei parchi e Venezia impone la tassa sui turisti sbarcati. Approfondiremo tra poco. Dunque andiamo a vedere gli altri titoli nazionali. Il Corriere della Sera, in apertura anche qui la manovra. Tutte le misure, sì definitivo tra l'eliti. Salvini, il governo non rischia nei prossimi mesi. Conti pubblici, terrorismo contro di noi. Il post dei 5 stelle scatena la bagarre e viene cancellato. L'editoriale firmato da Ernesto Galli della Loggia, nascita in merito, l'elite senza ricambio e il titolo della riflessione odierna sulla prima del Corriere della Sera. E poi andiamo a centropagina. Abbiamo anticipato già in precedenza sul messaggero. Dovrà pagare chi arriva con qualunque mezzo, così i fondi per i restauri, una tassa fino a 10 euro per entrare a Venezia. Una tassa per chi non soggiornerà nella città e dunque farà il cosiddetto turismo, mordi e fuggi. Andiamo su Repubblica ora. Il titolo di apertura. Ecco la manovra. L'Unione Europea ci guarda. Scuola oltre 4 miliardi di tagli. Questo è il titolo con la lettura di Repubblica. Sì definitivo. Moscovici, il commissario europeo, dice vigileremo colpito il sostegno ai disabili. Governo contro il blog delle stelle per il post che abbiamo visto in precedenza. Il commento è affidato a Massimo Giannini. A conti fatti non c'è un'idea di futuro. Questo è il commento abbastanza negativo di Giannini. E poi mappe un paese con il fiato sospeso. Un paese sospeso. Questo gioco di parole nell'editoriale di Ilvo Diamanti. A centropagina i 60 anni della rivoluzione Trump riscopre la guerra fredda e Cuba rallenta sulle riforme. Dunque uno sguardo oltreoceano sulla Repubblica. Andiamo sulla stampa. Questa è la copertina che trovate oggi in edicola. 2019, l'anno zero di una nuova Europa. Vedremo se veramente sarà l'anno zero. Tra l'altro il 2019 dovrebbe essere anche l'anno della Brexit, ammesso che si riesca a trovare l'accordo. Dunque è un anno importante per l'Unione Europea con anche le elezioni alle porte. Andiamo sul sole 24 ore. In primo piano questa immagine del 2019 con un maiale nello zero. Perché? Perché il 2019, secondo il calendario l'oroscopo cinese, è l'anno del maiale. E comunque guida al 2019 in 100 novità e l'approfondimento che trovate sul sole 24 ore a riguardo proprio di tutte le novità contenute nei provvedimenti del governo. Famiglia congedo ai papà, mamme al lavoro fino al parto, poi aumenti, autostrade più care, aliquote imutasi sbloccate, poi le pensioni, quota 100, opzione donna e mini rivalutazione, le imprese, sgravi e capannoni, mini Ires sugli utili reinvestiti. Ma chiaramente c'è poi altro all'interno della guida del sole 24 ore. Nel taglio alto legge di bilancio, altra guida per quanto riguarda invece le novità contenute nel provvedimento fiscale. Oggi il primo speciale del sole 24 ore. Altra novità per il 2019 che riguarda le imprese, la e-fattura, la fattura elettronica, ultime ore di controlli. Domani ci sarà il debutto ufficiale, il passaggio al formato elettronico interessa 3 milioni di soggetti IVA, codice destinatario PEC, delega intermediario e provider checklist delle verifiche finali. Vedremo se andrà tutto liscio, ci saranno degli intoppi per quanto riguarda la fattura elettronica. Andiamo sul fatto quotidiano adesso. Il titolo di apertura del fatto muore la donna abbandonata nell'ospedale tra le formiche. Infezione incurio. Un mese fa il videoscandalo indagano i PM di Napoli. Dunque questa è l'apertura del fatto quotidiano. Nelle altre notizie la manovra alla Camera, la manovra in legge e fa litigare Gentiloni e Del Rio. Solo 313 voti. Movimento 5 Stelle richiama gli assenti. Andiamo sul tempo. Il messaggero l'abbiamo visto in precedenza. Andiamo su un altro giornale romano. In apertura gli uomini simbolo del 2018. Chi ha lasciato il segno nell'anno che finisce? Allora Salvini, Toninelli, Conte, Feltri, Marchionni, il piccolo Alfi e i cittadini del Veneto flagellato. Il tempo ha voluto scegliere loro come protagonisti degli ultimi 12 mesi. Qui vedete le foto. Ecco il perché. Lo trovate all'interno del giornale. E poi nel taglio basso c'è un approfondimento di sport. L'anno in chiaroscuro di Roma e Lazio. Il bilancio delle romane tra gioie e qualche delusione di troppo con le foto dei due allenatori di Francesco e Inzaghi. Andiamo su Libero. Anche qui si tracciano i bilanci del fine anno. Il 2019 parte con il piede sbagliato. Buon anno del cavolo, secondo Libero. I grillini aumenteranno il debito per ottenere maggiori consensi e non aiuteranno i poveri, però daranno una mano agli evasori attraverso il reddito di cittadinanza. Che schifezza. Questa è l'opinione di Vittorio Feltri. Andiamo poi a centropagina. Così questi due e l'euro ci hanno rovinato. Ventennio Amaro per la moneta unica. E qui vedete Romano Prodi e Carlo Azzeglio Ciampi, che sono stati i due fautori principali dell'entrata nell'euro dell'Italia. Andiamo avanti. La verità. Il titolo di apertura. Immigrati. Il business dei minori. Disastri dell'accoglienza indiscriminata. Spendiamo centinaia di milioni per assistere gli under 18, ma non c'è alcun controllo. Così ogni anno a migliaia spariscono nel nulla e vengono a ingrossare le fila delle bande criminali. Di spalla rischio il governo oppure Mattarella è contro, ma l'autonomia deve passare, scrive Maurizio Belpietro. E poi ancora soccorso rosso di Fico, vietato parlare dei regali di Stato di Renzi. Questo è l'approfondimento sul presidente della Camera. E ancora a centropagina tutti i segreti del reddito di cittadinanza. Sul secolo d'Italia, il quotidiano che fa riferimento al partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, la scritta Renzi. Che cosa? Giorgia Meloni contro il governo. Gli italiani lo scorso 4 marzo hanno votato in massa per mandare a casa Renzi. Ora non si meritano un'altra manovra scritta da Renzi. E poi in primo piano il governo dice no all'ordine del giorno di Fratelli d'Italia. Dov'è il cambiamento? Blog delle stelle. Gaff imbarazza pure Fico e 5 stelle. Aguri a Ger Borsonaro. Isteria di massa a sinistra. Il presidente del Brasile, diciamo di destra, dopo anni in cui al potere c'è stata la sinistra invece. Andiamo sul mattino di Napoli. Il titolo di apertura, reddito, ecco i nuovi paletti, tasse record per le imprese, sussidio a un milione di famiglie in meno. Conto salato anche per le banche. La manovra è legge. Moscovici dice Bruxelles vigilerà l'ite per un post dei 5 stelle. Questo è il titolo del quotidiano napoletano. Poi altra notizia. Andiamo a Milano. Ultramorto. L'allarme del GIP. C'è il rischio di rappresaglie. Cosche, droga e bagarinaggio. Il grande business delle curve. la vendetta contro i napoletani, attesa da quasi tre anni. Si torna chiaramente sugli scontri prima di Inter-Napoli. Andiamo a vedere, visto che l'abbiamo introdotto in qualche modo l'argomento sport, i quotidiani sportivi nazionali. La gazzetta dello sport in primo piano mette il Milan. Il piano di Gattuso per la Champions. Bollicine Milan. Gol e qualità per il quarto posto. Iguain rimane. Cutrone rilancia. Paquetà arriva. Gabbiadini più di un'idea. Piace Muriel, ma c'è la Fiorentina ad ostacolare il passaggio. Di spalla lo scatto di Keita. Conquistare l'Inter con un po' di follia. Il senegalese fa una rete ogni nove giorni. Riscatto a 34 milioni. Summit a febbraio. Restano in carcere i tre arrestati. Il Jeep, il Blitz Ultra, è stato pianificato. Un'azione militare. Il capo della Curva Nord rischia il fermo. Indagato anche il leader dei Viking. Poi nel taglio basso le vacanze dei calciatori. A Dubai con CR7, l'aereo più ricco del mondo. Ancora la dea del gol. Atalanta meglio di Juve e Napoli. Zapata, Ilicic e company. 39 centri nel girone d'andata. Nel taglio alto invece l'automobilismo. Re Hamilton, il pilota della Mercedes, eletto da noi campione dei campioni del 2018. La mia stagione più bella. Ci racconta, scrive il giornale, i dieci momenti più esaltanti. Cifrin donna dell'anno. Tra le squadre trionfa alla nazionale francese di calcio. Dunque questa è la gazzetta. Andiamo invece sul Corriere dello Sport. In apertura il 2019 parte con un mercato da sogno. Cross per Icardi. Questa l'idea dell'Inter che insegue Godin per rafforzare la difesa e tratta il tedesco del Real per dare a Maurito il fuoriclasse che gli apra le strade del gol. Andiamo nel taglio alto. Si torna sulle polemiche per quanto riguarda il VAR. Salvate il VAR. Difformità di giudizio e valutazioni sbagliate. Dieci casi in una giornata. Errori e polemiche. Ora serve una svolta. Scopriamo come la tecnologia deve recuperare subito la centralità al servizio della classe arbitrale. Poi il bello del calcio. Un bilancio del 2018 con la vedete la rovesciata ormai famosissima di Ronaldo nella partita fra Real e Juventus. E poi Ramsey sia la Juve la firma imminente. Muriel la Florentina in vantaggio sul Milan. Per quanto riguarda le altre notizie. Chelsea, Cantè, Lancia, Sarri, Pogba, quattro gol con Murigno a casa. E per quanto riguarda la Serie B il Parermo in fuga Pescara Show da 2 a 0 a 2 a 4. Fra poco andremo a vedere il servizio della partita. Prima però concludiamo la lettura dei quotidiani sportivi con Tutto Sport. Poi andremo a vedere la partita show del Pescara. 2019 esplode il mercato, l'apertura di Tutto Sport. Il titolo Juve Ramsey. Ecco l'offerta. Contratto di 4 anni, 8 milioni a stagione. Il centrocampista dell'Arsenal è sempre più vicino. Serezo, presidente dell'Atletico Madrid, rivale Champions. Chi passa va in finale. Di spalla Inter, riecco Covacic. E poi Virata Milan su De Paul. Questo l'obiettivo di Maldini e Leonardo. E poi Piazon Toro. Primo sì per quanto riguarda le altre notizie. Ma torniamo alla Serie B. Allora andiamoci a vedere la partita fra Salernitana e Pescara nel servizio di Paolo Renzetti. Botti di fine anno alla Rechi dove il Pescara con un fenomenale secondo tempo vince 4-2 in rimonta contro la Salernitana, conquistando tre punti che permettono alla squadra di chiudere a 32 punti. Bottino inimmaginabile alla vigilia del torneo. Per la sfida in terra campana gli indisponibili sono Campagnaro e Capone fra i biancazzurri, padroni di cassa senza Bernardini, Di Gennaro e Auger. Ai margini per scelta tecnica Bellomo. Pilon conferma per 9-11 la squadra vittoriosa con il Venezia e con Ciofani e Melegoni dall'inizio al posto di Balzano e Macine mentre Gregucci schiera la sua squadra con il 3-4-2-1 in difesa. Torna l'ex biancazzurro Schiavi, spazio anche dall'altro ex Pucino. Direzione di gara affidata a Piliteri di Palermo di fronte a 9.000 spettatori fra cui 300 tifosi pescaresi. Al primo vero affondo al 14esimo passa in vantaggio la formazione di casa con una punizione calciata dalla destra da Vitale per la di Pucino che vince il contrasto con Ciofani andando ad insuccare il pallone alle spalle di Fiorillo. Subito una doccia gelata per il Delfino che rischia poi anche il 18esimo con un tiro di poco alto di Anderson. Approccio molle dei biancazzurri aggrediti in ogni zona del campo dagli assatanati padroni di casa che spingono di più anche dopo la rete di Pucino. Fa invece fatica la squadra adiratica che però al 33esimo arriva vicinissima al pari con Mancuso a cui Micai dice di no salvandosi in angolo. Sugli sviluppi del corner palla Gravion che segna di testa vedendosi però poi annullare la rete per un fallo di scognamiglio. Emozioni a raffica con i padroni di casa che trovano il raddoppio poi al 36esimo sul rigore trasformato da Vitale e assegnato da Piliteri dopo un tocco con la mano di Gravion in area su cross di Rosina. I biancazzurri però si destano e poco dopo un minuto in Mancuso di testa su cross di Marras a fare 2-1 riaprendo le speranze del Pescara che poi non rischia più nulla fino al termine del primo tempo. La ripresa e che ripresa si apre al settimo con il gol del 2-2 segnato da Scognamiglio che tocca il pallone dopo un cross di Brugman. Grande avvio del Pescara che con Canute in campo per Melegoni al 14esimo sfiora il 3-2 e con Mancuso che poi si rifà dopo l'errore di un minuto prima al 15esimo segnando la doppietta il suo undicesimo gol in stagione per il sorpasso abruzzese. I biancazzurri rischiano di dilagare visto che al 19esimo il palo a negare a Marras il gol del 4-2. Pilon manda in campo anche Macine per Antonucci con i biancazzurri che si schierano con il rombo. Rosso spavento però al 26esimo con Castiglia che sfiora il palo ai 30 metri. La gara resta aperta con il Pescara ancora vicino al poker al 31esimo con lo scatenato Mancuso che in area gira a lato. Il Pescara è però incontenibile e padrone del campo e al 36esimo Mancuso segna un euro gol con il 4-2 che chiude di fatto la partita e con Macine che poi nel finale si divora anche il gol del 5-2 ma va benissimo così con il Delfino che va a festeggiare con i suoi tifosi sotto la curva una grande vittoria miglior fine di 2018 non poteva esserci per gli abruzzesi. Allora torniamo alle prime pagine regionali c'era stato quel disguido con la prima pagina del messaggero allora l'abbiamo recuperata eccola qui possiamo vederla insieme l'apertura è dedicata al Capodanno festa in piazza a Pescara all'area di risulta c'è Jax domani invece Silvestri botti vietati sequestrati dalla finanza l'acqua show dedicato invece a Vasco Rossi. Di spalla la politica Legnini ecco il mio laboratorio politico il candidato di centrosinistra dà forma al suo nuovo polo civico. Poi andiamo a vedere le altre notizie autostrade si attende il blocco dei pedaggi per quanto riguarda il caro tariffe se non ci sarà il blocco tariffe che aumenteranno del 18 di oltre il 18 per cento e poi per quanto riguarda la serie B trionfa Salerno in remuntata abbiamo visto Pescara in alto nel segno di Mancuso autore di una magica tripletta. Nel taglio alto le altre notizie all'Aquila preso a pugni mette una taglia per individuare l'aggressore a Pescara giovani picchiati nel centro storico la polizia esegue quattro arresti e poi a Lanciano terribile schianto tra due auto perde la vita un uomo di 66 anni. L'incidente alle 23 di sabato a Selva d'Altino la vittima è Vincenzo Trotta la morte ieri mattina all'ospedale di Chieti sotto osservazione invece l'altro ferito. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore importanti per i festeggiamenti di Capodanno poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna e torneremo sulle notizie dalla nostra regione aprendo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Vi aspetto. Eccoci bentornati a mattino 6 proseguiamo la nostra rassegna stampa andando ad aprire le pagine interne dei quotidiani regionali abruzzesi partiamo dal centro doppia pagina che riassume gli avvenimenti principali del 2018 fatti e personaggi un anno da ricordare le 20 fotografie che raccontano l'Abruzzo dalla morte di Marchionne al miracolo di San Nunzio dal dramma del viadotto eccolo qui allo shock per la rapina in villa poi ci sono tutti gli altri avvenimenti più importanti secondo il quotidiano il centro. Andiamo avanti restiamo però sul quotidiano il centro andiamo a vedere l'Abruzzo verso le regionali. Dorazio scrive a Meloni cambia Marsilio la lettera dell'esponente del centrodestra iscritto a Fratelli d'Italia diventa un caso elettorale e poi da garage ad alloggi adesso si può fare la consulta da il via libera alla legge urbanistica voluta da Di Matteo quando era assessore si sbloccano migliaia di casi non è un condono ma un cambio di destinazione che può risolvere i problemi delle giovani coppie spiega lo stesso di Matteo. Nel taglio basso il progetto di finanza a Chieti è un atto da subito lo stop all'inchiesta sull'ospedale per quanto riguarda appunto l'ospedale di Chieti. Poi troviamo anche la visita di Salvini in Abruzzo il 4 e 5 gennaio due giorni con il programma della visita nella nostra regione del ministro dell'interno. Andiamo adesso nella doppia pagina dedicata agli eventi di Capodanno a Pescara recuperiamola eccola qui Capodanno sotto le stelle gli spettacoli concerti super blindati per le feste di fine anno. Stasera J-Axe nell'area di Risulta 250 sono gli addetti alla sicurezza domani c'è Silvestri per quanto riguarda questi due eventi. Poi ancora oggi viabilità rivoluzionata tutti i vieti per il traffico parcheggi sulla strada parco da questa mattina la zona centrale vicina alla stazione diventa inaccessibile le veli mitrofe all'area del concerto delimitate da blocchi di cemento. Intanto sequestrati tre quintali di botti operazione della guardia di finanza Città Sant'Angelo denunciati due ventenni. Nel taglio basso a Francavilla si ha i fuochi luminosi via libera solo da stamane fino alle 10 di domani restano vietati i botti rumorosi a Montesilvano capodanno amicizia al Pala di Martin. Proseguiamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere le altre notizie da Pescara. Rapinati e presi a pugni quattro gli arresti due giovani aggrediti in via dei Bastioni e via Conte di Ruvo da una banda subito rintracciata dalla polizia sulla Golena Sud. Ancora truffe e pedofilia online 19 gli arresti della polizia nel 2018. A Montesilvano invece imbrattato il monumento ai caduti in piazza Montanelli. Poi ancora l'acrappogruppo di minoranza Pianella-Giansante si candida alle regionali per Legnini. Nella pagina successiva a Colli le strisce si illuminano al passaggio dei pedoni. Intervento per risolvere il problema degli investimenti notturni in via di sotto. Lavori completati entro una settimana. Il Comune spenderà 20 mila euro. Di spalla penne cambio al vertice Santamicone coordinatore della protezione civile. A Francavilla invece si ricorda la strage di Santa Cecilia del 43 e dunque Francavilla ricorda i martiri dell'ecidio di Santa Cecilia. Prima di passare alle pagine di Chieti andiamo a vedere la pagina di Pescara sul messaggero. Eccola qui. Giovani aggrediti. Al centro storico scattano quattro arresti. Il titolo di apertura. Prima il furto poi la richiesta di soldi. I domiciliari un pescarese un chietino, un romeno e un albanese. Picchiate e derubati del cellulare di un accendino. I due episodi fotocopia. Le vittime in ospedale prognosi di otto giorni. Di spalla caso Rigopiano. Di Marco verso l'esclusione dalle regionali. Di Marco che è indagato appunto per quanto accaduto a Rigopiano. Un anno di cifre contro i reati informatici. Lotta a pedopornografia e truffe online nel bilancio 2018 della Polizia Postale. Restiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la pagina di Chieti. Eccola qui. Perde la vita a 66 anni in un terribile frontale. Incidente sabato alle 23 a Selva d'Altino. Vincenzo Trotto originario di Archi è deceduto ieri alle 12 in ospedale a Chieti. E poi Chieti Pulita. Il nuovo gestore per i rifiuti spalerà la neve. La polemica per il capodanno. Un capodanno senza eventi a Chieti. Marzoli del PD. Così la città si spegne. Nel taglio basso. Abbasto. Emergenza sicurezza. Lanciano concerti EFM e EMF al Fenaroli. Estate musicale frentana. Andiamo a vedere le pagine di Chieti anche sul centro. Eccole qui. Altino. Tragedia in contrada Selva. Muore 13 ore dopo lo schianto in auto. Vincenzo Trotta. 66 anni. Ex autista di autobus. Era a pochi metri da casa. L'incidente alle 23 di sabato. Il decesso ieri a Chieti. Lo scontro in via nazionale. L'uomo si è aggravato nella notte per una lesione alla orta. L'altro conducente in osservazione breve all'ospedale di Lanciano. E poi sicurezza in città. Si mobilita il turismo. A vasto operatori della Marina chiedono un tavolo di confronto e più forze dell'ordine. Nel taglio basso Borrelli un anno di soddisfazioni. A testa il bilancio del 2018 del sindaco. Bene ospedale, ambiente e casse comunali. Nella pagina successiva. Spero no e inseguì un'auto e violenza privata. 39enne di manopelo finisce in tribunale per una diatriba in automobile e si è immesso sull'asse senza dare precedenza e mi ha stretto contro il guardrail. Poi la bara allo stadio Angelini. L'omaggio al tifoso morto Stefano D'Alberto. E poi Squicciarini. No ai botti. Il comune faccia i controlli. Sempre per quanto riguarda Chieti. Ortona. Le contrade. A noi meno servizi sui rifiuti. Proteste per la raccolta cambiata rispetto alla città. Ortolano. Modifiche chieste dai residenti. Andiamo avanti. Sempre sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere le pagine di Teramo. Appalti sospetti. Altri sei mesi di indagini. Il PM chiede una proroga fino a giugno. Sott'accusa soprattutto le gare di sommorgenza per neve e terremoto. Dunque questa l'inchiesta sugli clienti. Di Spalla. Zennaro. Dal governo fondi per 44 comuni della provincia. Questo è l'annuncio del deputato Cinque Stelle. Poi nel taglio basso. Mare per tutti. Piano nel dimenticatoio. Bloccato il progetto di provincia e comuni costieri per migliorare l'accesso dei disabili alle spiagge. La pagina successiva. Il mercato itico a Giulianova. Cenone di Capodanno. Record di pescato. Vendute all'asta tre tonnellate di pesce. Prezzi stabili e 20 mila euro di incasso. Il direttore è soddisfatto e dice ottimi risultati. Poi ancora More Garosi. L'ex primario di ortopedia. Il medico aveva 88 anni. Il ricordo dei suoi allievi sempre pronto ad ascoltare i pazienti. Le pagine di Teramo. La pagina di Teramo sul messaggero. Eccola qui. Sarà l'anno della riscossa nel segno di cultura ed eventi. Il sindaco d'Alberto a Teramo traccia il bilancio prima del concerto in piazza di Ermalmeta. Troveremo la soluzione per i parcheggi ma dobbiamo accelerare sulla ricostruzione. La notte della Taranta diventerà un bel richiamo per residenti e non. Di spalla. Neve nel santuario. Protesta dei fedeli. A Padula la chiesa di Santa Maria Assunta rappresenta la vicenda simbolo dei territori montani dimenticati. Poi a Giulianova. Marchionni e Marà candidati. I dem giuliesi alla regione. Andiamo a vedere sempre sul messaggero. Andiamo a vedere adesso le pagine dell'Aquila. Eccole qui. Capodanno sugli sci. Le piste sono sold out. Tutto esaurito prima di Natale. Almeno 2000 è presenza ogni giorno. Tra disservizi la sosta selvagge. Le infinite code alla biglietteria. Gran Sasso accoglie il nuovo anno con il boom degli arrivi degli appassionati della montagna. Ma ci sono anche delle ombre. Per il turismo alberghi pieni. Si lavora già per l'epifania. E poi ancora nel taglio basso una taglia per individuare il picchiatore. L'aggressione. Il 24 pomeriggio durante la vigilia fuori l'Ambra è stato tirato un pugno in faccia a un signore di 55 anni. Nella pagina successiva. Funerali blindati per il fratello del boss a Capistrello. È stata tumulata al cimitero la salma di Nazareno. Familiare di Carmine a capo dell'omonimo clan mafioso di Ostia. Reno era morto domenica 23 dicembre all'ospedale di Avezzano dove era ricoverato per una grave malattia. E poi ancora Botti. L'ordinanza fantasma che nessuno sta rispettando a Sulmona. E poi urologia. Solo due medici e allarme. Sempre a Sulmona per quanto riguarda invece la sanità. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Le pagine dell'Aquila. Via Garibaldi indaga la polizia. Pugno in faccia all'uscita da un locale. Aggressione spiegabile in centro. L'appello del figlio del 55 anni ricompensa a chi ci aiuta a trovare il colpevole. Per il Duomo i lavori al Via. Entro il 2019. Finarelli del Mibact lo ha annunciato in TV a Belle Italia. Decisivo l'intervento di Petrocchi su Mattarella. La trasmissione di sabato su Rai 3 a livello nazionale era dedicata al restauro delle anime sante. Nella pagina successiva Avezzano. Sanità. Carenza di personale. Ospedale al collasso. Mancano i posti letto. Allarme di capocitti della CISL. Sono appena 226 per una popolazione di 150 mila abitanti malati costretti a lunghe attese. Poi nuove manovre per ribaltare la casinia a Sulmona. L'opposizione punta a coinvolgere avanti Sulmona ma il sindaco fa le sue contromosse. Nel taglio basso impianti sciistici. Gua in vista per una causa. Pescassero. Lì arriva una sentenza che potrebbe comportare il blocco momentaneo dell'attività. Continuiamo sul quotidiano il centro. Adesso andiamo ad aprire le pagine di sport. Partiamo dalla copertina dello sport del lunedì con il Pescara e la rimonta da applausi a Salerno. Mancuso Show e Biancazzurri ribaltano la Salernitana. Agganciato il Brescia al secondo posto. E poi in Serie C il 2-0 al Bonolis con il Teramo che batte il Sud Tirol e respira in classifica. Le altre notizie di Lettanti. L'Aquila regina dell'andata in prima categoria. Un ruolo compressore. Il personaggio bomber con le vecchie. A 36 anni segno tanto e non penso a smettere. Poi la sosta del calcio. Serie A stop per due domeniche. Si riparte il 12 di gennaio con la Coppa. E poi il basket di Serie B. L'amatori vola. Il derby va al Teramo. Volei di A2. L'impavida a K.O. a Bergamo. La sieco sinchina al capolista. Ma entriamo più nel merito del calcio di Serie B. Allora andiamo a vedere insieme la doppia pagina dedicata proprio alla partita fra Salernitana e Pescara. Il botto di fine anno. Tripletta di Mancuso. Pescara può sognare. Biancazzuri chiudono il girone d'andata al secondo posto. Grazie al successo di Salerno conquistato in rimonta dal 2-0 al 2-4. Granata avanti di due gol. Ma il Delfino non molla. Segna subito il 2-1 nella ripresa da spettacolo mettendo il sigillo sulla seconda vittoria di filo. L'abbiamo visto in precedenza nel servizio di Paolo Renzetti. Un'altra dimostrazione di forza che salta il collettivo e le doti realizzative dell'attaccante salito a quota 12 nella graduatoria dei cannonieri dietro a Donnarumma del Brescia. E poi le parole dell'allenatore Pillon. Si gode l'impresa e la classifica. Ora è vietato soffrire di vertigini. A fine gara l'ammissione onestamente non mi aspettavo di chiudere il girone di andata al secondo posto. Andremo avanti lavorando come abbiamo fatto finora. Alla Rechi la svolta dopo l'intervallo. Nel primo tempo perdevamo tutti i duelli. Nella ripresa siamo entrati in campo piuttosto. Marras anche in C. Ci sono degli ottimi calciatori. Tra poco ascolteremo proprio le parole di Pillon. Il bomber che sale a quota 12 spopola sui social. Il ritornello Mancuso fa l'igol e il tormentone dei tifosi biancazzurri. Andiamo a vedere l'apertura dello sport sul messaggero. Ecco qui l'Abruzzo Sport. Chiaramente si parla del Pescara nel segno di Mancuso. Tripletta del bomber. Il Pescara brinda a Champagne. Gran successo in remontata. I campani erano in vantaggio per 2-0 ma la reazione del Delfino è stata entusiasmante. Tra i marcatori fondamentale Scognamiglio che ha rovesciato il banco alla Rechi. Di spalla Scognamiglio dedico la rete a mia moglie incinta. Il gol dell'ex nel taglio basso. Che gioia. Non pensavo di riuscire a tanto Mancuso. Non penso alla classifica dei marcatori o alla Juventus. Conta solo questo Pescara. Andiamo a vedere poi le altre reazioni nel dopogara. Match a grossi livelli. Mister Pillon entusiasta. Il Pescara secondo al giro di Boa con il Brescia. E allora prima di proseguire con le altre notizie. Andiamola ad ascoltare Beppi Pillon. Un grandissimo secondo tempo. Tanto di cappello al Pescara. Nel secondo tempo non c'è stata partita. Sì, nella seconda parte della partita siamo con figlio diverso. Più cattiveria, più tosti. Abbiamo perso meno a livello individuale con i contrasti con i giocatori avversari e abbiamo fatto il nostro gioco. La velocità di esecuzione è stata padrona nel senso con i tre veloci che abbiamo avanti. Noi dobbiamo rendersi conto che quando attacchiamo la profondità siamo devastanti e dobbiamo lavorare per arrivare a questi livelli. È importantissimo per noi questa vittoria. Immaginiamo che nell'intervallo si sarà fatto sentire con i ragazzi. Sì, si è fatto sentire, però avevamo detto che stavamo perdendo troppi contrasti a livello individuale, avessi più tosti, più aggressivi e così è stato che poi la partita è cambiata. Possiamo dire che questa vittoria è per lei una delle vittorie più importanti degli ultimi anni, nonostante le tantissime panchine in Serie A, in Serie B. Questa è una vittoria che nelle ultime stagioni ha un peso, Piloni? No, è molto importante sempre vincere, al di là che sia a fine girone di andata. Le vittorie sono tutte belle, perciò quando si vince vedi completare il lavoro settimanale, tutto quello che tu provi, tutto quello che fai e questo significa molto. Perciò è una vittoria importantissima, come tante altre. Non ritengo per la mia carriera l'essenziale, perché bisogna guardare avanti e pensare di farne altre. Però in pochi alla vigilia avrebbero pronosticato il Pescara alla fine del giorno d'andata a 32 punti. Lei ci sperava, ma forse non si aspettava questo rendimento. Sì, è vero. Penso che nessuno, all'inizio anche gli addetti ai lavori, non ci avevano considerato da questo punto di vista, ma noi pian piano con il nostro modo di fare, con il nostro gioco, ci stiamo ritagliando uno spazio importante. Però siamo solo nelle girone di andata, ci sono altre 19 partite, perciò dobbiamo far bene queste 19 partite. L'ultimissima, mister, è sempre antipatico parlare dei singoli, però per un giocatore che segna tre reti in una partita, Mancuso, qualche parola dobbiamo spenderla. Leo sta facendo molto bene, valorizza molto il gioco della squadra e incompleta tutto il lavoro che fa la squadra. Finalizza il lavoro che fanno i compagni ed è molto bravo in questo, perciò complimenti a lui ma anche ai suoi compagni. Insomma, Mancuso, uomo di giornata, il protagonista sul centro, gli viene dedicato ampio spazio, l'attaccante e la tripletta per il cagnolino che sabato abbiamo trovato senza vita al poggio degli olivi, era sempre lì con noi e dunque Mancuso per la Serie A. C'è anche il Pescara, sono determinante ma devo dire grazie ai miei compagni per gli assist. Chiaramente l'attaccante è sempre avvantaggiato quando gira tutta la squadra. Le altre partite, Foggia-Verona 2-2, Ascoli-Crotone 3-2, Cittadella-Palermo 0-1, Cremonese-Perugia 4-0, Benevento-Brescia 1-1, Spezia-Lecce 1-1 e poi Livorno-Padova 1-1 e Venezia-Carpi altro pareggio per 1-1. Il Palermo è campione d'inverno, l'Ascoli ribalta il Crotone di Oddo pari tra Benevento e Brescia, poker della Cremonese al Perugia. Proseguiamo con i biancazzurri, andiamo a vedere le pagelle, si rivede Memuschai, Marras è incisivo, Canutè entra bene in gara e Antonucci conferma la sua crescita. Pescara devastante nei secondi tempi, 21 gol fatti su 29, l'approfondimento sui numeri del Pescara, mentre cambiando argomento ma restando in tema di un grande tifoso del Pescara oltre che grande allenatore, gli amici ricordano Bruno Pace al San Marco, il primo memorial per l'ex giocatore e allenatore. Adesso proseguiamo con il quotidiano Il Centro, andiamo avanti, parliamo adesso di Serie C con il girone B e la ventesima giornata, il Teramo fa la differenza nel finale, partita non bella ma attenta dei biancorossi, Bacio Terracino sblocca il risultato e col su Tirolli in 10 raddoppia De Grazia, partita finita 2 a 0 con il Teramo che tira sospiro di sollievo anche e soprattutto in classifica, la squadra soffre come al solito nella fase offensiva ma soffoca bene il gioco degli ospiti, tra gli altosesini Costantino non era neanche in panchina in partenza ed è un obiettivo del diavolo. Prima di andare a vedere il messaggero e poi il servizio relativo alla partita, completiamo questa pagina, in Serie D real Giulianova presto due rinforzi, in arrivo Rinaldi difensore e poi dalla Roma il portiere Pagliarini, in Serie D ancora va stese la benedizione di Montani, la società ha fatto un buon lavoro, arrivati i giocatori che volevo. Andiamo sul messaggero, andiamo a vedere il titolo sul Teramo, Cin Cin di fine anno, il Teramo convince, battuto 2 a 0 il Sud di Roll al Bonolis, non era una partita facile, decisivi gol nel finale di Bacio Terracino alla sua ultima apparizione di De Grazia, ottima la classifica in questo fine anno e poi la punta Costantino in tribuna, sarà il nuovo rinforzo del Teramo. Prima di andare a vedere il servizio e le dichiarazioni dell'allenatore Maurizzi, completiamo anche questa pagina, Tomassini è un pineto che darà soddisfazioni per la Serie D, lo svincolato Villanova è passato alla Iesina e poi Lavastese già al lavoro, il Matelica nel Mirino. Ma torniamo alla Serie C, allora andiamo a vedere insieme il servizio sulla partita fra Teramo e Sud di Roll e poi le dichiarazioni a fine gara dell'allenatore Maurizzi con Jacopo Forcella. Il Teramo si congeda nel migliore dei modi dal 2018, la vittoria per 2 a 0 sul Sud di Roll è un sigillo conclusivo per il diavolo dopo un anno solare un po' così, ma che specie nella parte finale qualche gioia in più l'ha regalata. Il successo del Bonolis altro non è che la conferma di una squadra in salute volitiva, che magari non avrà grande qualità, ma che ha imparato a soffrire nei momenti difficili di una stagione, appena un po', oltre la metà. La gara con la formazione di Zanetti è stata tutt'altro che una passeggiata, con Rocco Costantino in tribuna ad ammirare la partita e quella che potrebbe diventare la sua prossima casa. Tutto dipenderà dal mercato, quello stesso mercato che sembra aver deciso che quello dell'1 a 0 è stato l'ultimo gol di Bacio Terracino in maglia termo. Il gol che spezza l'equilibrio della gara nella ripresa, infatti, è un concentrato di voglia, di tenacia di un attaccante che lascerà presto il bianco-rosso portandosi dietro la netta sensazione che in un reparto assortito meglio avrebbe potuto fare davvero molto di più. Ma l'ultima dell'anno ha confermato la crescita esponenziale di Angelo Persia, vero e proprio erede del Cenciarelli che fu, ha evidenziato che Proiette, entrato in corso d'opera per Ragneri, ha perfettamente il polso del gioco del diavolo e De Grazia, capo cannoniere tra i bianco-rossi con i suoi quattro sigilli, tutti al Bonolis, ha portato già in note un bottino di punti che si avvicina al numero che porta sulla maglia. Cancellato dunque il passo falso di Terni in un finale che restituisce al Teramo una classifica più consona alle reali potenzialità della squadra. Un primo tempo da sbadigli, ravvivato solo da un legno per parte, Persia e Tait, una ripresa a pannaggio, almeno all'inizio, della formazione di Zanetti che tuttavia ha il demerito di non concretizzare a dovere con Turchetta specialmente su cui è miracoloso un Lewandowski stile garella. La conseguenza è il vantaggio proprio di Bacio Terracino con un diagonale che sa di liberazione dopo tante settimane passate a vedere i compagni giocare, nel giorno in cui Piccioni rifiuta la panchina e chiude la sua sfortunata avventura in Abruzzo. Dopo il vantaggio il Teramo si scioglie, il Suttirol rimane in 10 per il secondo giallo rimediato da Oneto che abbatte un bacio a Terracino indemoniato e con la sventola di De Grazia che certifica il momento positivo di una squadra che ora tira il fiato ma che ha 23 punti e adesso in una posizione più comoda di classifica. Rompete le righe dunque e appuntamento al 2019, il 19 per la precisione e sarà un rientro da brividi. Si va a Riviera delle Palme per un derby, quello con la San Benedettese, che potrebbe rilanciare ancora di più un diavolo ora più vivo che mai. Sono tre punti, quindi valgono tre punti, come valeranno i tre punti con la Ternana, come valeranno tre punti prossimi a San Benedetto. Dobbiamo fare più punti possibili per raggiungere prima i traguardi prefissati. Piccioni per scelta tecnica è rimasto fuori. Piccioni ha dato tantissimo per questi colori, quindi va ammirato e apprezzato per quello che ha fatto per questi colori. Oggi per me la sua situazione mentale non era quella più idonea perché ha ricevuto troppe critiche e quindi magari ha subito e quindi è giusto che non si esponesse ancora anche perché se era per me giocava dall'inizio. Abbiamo fatto una buona gara, ma anche altre volte con la Triestina abbiamo fatto un'ottima gara. Infatti l'avete vinta. Quindi? Anche a Pesero e anche a Verona abbiamo fatto una buona gara. A Terni no? A Terni, ma a Ternana è molto forte. Lei ha preso questa squadra in clamorosa difficoltà, adesso sembra proprio un'altra squadra. Sì, sì, ottimo, ottimo, ottimo. Bene, sono molto felice, è inutile nasconderlo, quindi adesso... pensiamo a recuperare energie e calciatori per iniziare il prossimo anno con un piglio molto importante per fare i più punti possibili. Si riposa anche Maurizio? Si riposa anche Maurizio un po'? Beh, difficilmente. Chi fa questo mestiere riposa poco perché magari finisce un'attività sul campo e inizia un'altra parallelamente fuori. E il mercato? Eh, appunto, dicevo questo. Insomma, queste le parole di Maurizio, adesso restiamo allo sport, completiamo la lettura dei giornali con le altre notizie. Torniamo in Serie D, il Real scopre due talenti, si tratta di due senegalesi classe 2001, uno di loro firma subito l'amicoevole con il morro d'oro, finisce due a due, serve subito un portiere. Per questo, per quanto riguarda ancora la Serie D, poi si parla del Francavilla, Francavilla a tutta velocità verso la zona play-off con il campionato arrivato al Giro di Boa che riprenderà nel nuovo anno, il giorno della Befana. Le altre notizie, ancora calcio, eccellenza, fine anno, tempo di bilanci, tutti i numeri li trovate nell'articolo, poi Rosetto Sicoccola Nicola Achele, il Moro di Treviso, il 23enne, una delle belle sorprese del girone per quanto riguarda il basket Lala, è una stagione molto importante perché vengo da un anno negli Stati Uniti nel quale ho giocato davvero poco. Per l'atletica leggera, l'assemblea tecnici abruzzesi, si dimette il professor Natale. Completiamo il messaggero, SIECO-KO, Bergamo è un rullo, partita senza storia sul campo della capolista Bergamo, finisce 3-0 per gli Orobici lanciati verso la promozione, pesante cappotto per gli ortonesi che sono partiti soprattutto con la missione di centrare qualche punto, solo il secondo set è stato equilibrato ma sono arrivati errori in ricezione che hanno compromesso tutto. Ancora basket, l'Uni Basket non si ferma, non ha vittoria di fila, ha spazzato anche il Catanzaro, successo 79-45 dei pescaresi, mai in discussione, termo riparte, K.O. Casalingo sul centro, le altre notizie di sport, qui c'è un commento che non avevamo letto in precedenza, sempre sulla partita del Teramo, Campitelli, lo spirito mi piace, lottiamo tanto con le parole di Maurizzi che abbiamo già sentito e poi in eccellenza il Chieti cerca un terzino classe 2000, dovrà sostituire Malandra in promozione, Lanciano ottimo test a Miglianico, i rossi e neri vincono e torna in campo Petrone dopo l'infortunio. Pagina successiva, i numeri dell'anno solare in Abruzzo, Pineto e Real Giulianova sono le regine del 2018, i biancazzurri hanno un punto in più, i giallorossi la migliore media punti. Gli Oscar dell'andata, l'Aquila, Regina d'Abruzzo domina in prima categoria, conquistati 42 punti in 15 gare, il patron De Paulis, ritorneremo grandi. E poi per il Lanciano e Del Grosso un anno in vetta. La promozione, il tecnico dice, non è facile giocare con l'obbligo di vincere, c'è ancora tanta strada da fare per risalire le categorie che le due piazze meritano. Poi l'inossidabile, Colle Vecchio e il principe dei Bomber, 19 gol in 13 partite per l'esterno e il miglior realizzatore tra i direttanti a Scerne per godermi la famiglia, finché segno non penso a smettere. Ancora le abruzzesi di Serie B, siamo al basket, Amatori e la nona sinfonia, anche Catanzaro si inchina, i pescaresi al piccolo trotto nei primi due quarti lasciano spazio alla squadra calabrese, poi salgono in cattedra e allungano la striscia di vittorie, Serafini e Potì in evidenza. Teramo si riprende il derby, Campi-K-O con onore, Adriatica-Prest vince in trasferta dopo otto mesi, Farnesi imbufaliti, arbitraggio sconcertante, la partita è finita 64-76, a Catanzaro invece 79-45. Sansevero è un rullo teate tramortita, Chieti-Sarrende alla capolista sotto gli occhi di Carton-Meyers, la partita è finita 64-77. In A2 Roseto testa la fortitudo dopo il blitz di Ferrara. Poi il Giulianova spento, Civitanova esulta, giallorossi poco incisivi e con l'emergenza infortuni cadono in trasferta 79-67. Il volley di A2 con il girone blu, la Sieco ci prova ma Bergamo esulta e Biancazzurri contro la capolista peccano di lucidità nei primi due set e si fanno rimontare domenica sfida al Grotta Zolina. E poi volley under 14, Ortona vince a Offida, finale tutta abruzzese nel torneo femminile delle Marche, battuta la Danunziana. Il presidente regionale FIPAV Fabio Di Camillo, quello ottenuto dalle due società, è un risultato importante. Andiamo al rugby, l'Unione L'Aquila fa festa aspettando la capolista, i neroverdi si godono l'ultimo successo sui Medici, alla ripresa c'è la capitolina, Donadio dice pensiamo al secondo posto, accettate le dimissioni di De Rubeis. E poi chiudiamo, un 2019 a tinta azzurra, l'Ital Rugby lancia la sfida, Paris se punta al ritorno, Riccioni spera nella chiamata a febbraio, il via col Guinness 6 Nazioni. Abbiamo concluso così anche la nostra rassegna stampa, mattino 6 tornerà il 2 gennaio, il primo infatti, i giornali non sono in edicola, io vi ringrazio per averci seguito, da parte mia l'augurio di un buon 2019. Grazie a tutti.